Il governo Conte ottiene la fiducia anche dal Senato. Ieri la votazione che ha visto incassare 156 sì, anche grazie ai cosiddetti responsabili, il Premier supera l'esame del Parlamento. Oggi altra giornata importante con il confronto al Quirinale tra il Premier e il Capo dello Stato Mattarella. Sul tavolo i numeri ottenuti dalle Camere e una stabilità ancora tutta da costruire con il vuoto lasciato in maggioranza dai componenti di Italia Viva che dovrà essere colmato. Una crisi che molti cittadini dicono di non aver compreso sul punto questa l'opinione dei molisani. Direi di sì, perché cambiare il tutto dalla testa ai piedi, come si dice, forse non è il momento opportuno. È il caso di fare più unione anche da parte del centro-destra, quindi dare anche una mano volendo e cercare di uscire al più presto da questa pandemia. Non gliela do per tanti motivi, perché si sono comportati male di fronte a tutti i cittadini d'Italia e quindi non era il momento di fare questi movimenti e poi chi ci rimette è il povero cittadino. Oggettivamente sì, perché comunque hanno, secondo me, lavorato bene fino adesso, quindi decisamente sì. Questa crisi di governo lei l'ha capita? Oggettivamente no, perché credo che non fosse il momento adatto per cominciare una crisi, visto il periodo di pandemia, visto il periodo difficile che stiamo attraversando. E' sfiduciato in quanto non andano proprio in questo frangente del Covid, loro cercano di bisticciare, di far cadere, specialmente con l'Eneri, di far cadere il governo. Non era necessario. Non era necessario, proprio adesso c'era maggior bisogno, anzi, di coesione tra i partiti. Grazie.